Lui sta su un altro determinato sito, non gli si fa andare in contemporanea e so cazzi Ah perchè a te così non ti va a fermare? No perchè io sto al triplo più avanti e te sì Avanti, lancia quel zagnolo Ma dove parco di c***o? Ma che ha fatto la parata? Ma quello è Tibala eh? È Zaniolo che ha tirato No era Tibala No era Zaniolo, ma tu c***o ne stai? No non so sto scherzando C'è la parata Sepe Porco, già due occasioni Ma la ti faccia l'ha parato Ma parla che arriva Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo di fisico, Zaniolo Zaniolo, Zaniolo, dove stai andando? Dove? Punizione, punizione, punizione Occhio, occhio, occhio Occhio ai battitori della Roma Ma vediamo un po', parte Paolo Fuori, ma va f***o Buona punizione, bella punizione ma fuori Ragazzi, già è iniziato il signorizzo di insultare Paolo di Bala Io mi dissoggio da queste affermazioni No, e spero neanche quest'anno Attenzione, Zaniolo, da un passaggio di Taccadabram Carità di Bala Che vede Zaniolo da solo? Vabbè No, regà, no Non puoi sbagliare una roba del genere Come era? Come era? Messa The Prime Come era? Come era? No, lo voglio rivedere quella storia Regia, mi rimandate la storia del signorizzo? Messa The Prime perché aveva perso 4 kg Polcozio che si ha mangiato più gli ciambellotti Ne ha persi 7, ne ha persi Messa The Prime perché non mangiava più gli ciambellotti Lui va più avanti di me, vero? Vabbè per i venini Ma io vado più avanti di lui Ma io vado più avanti di lui Ma come? E sì perché vedo la chat Infatti la chat mi ha detto Non lo posso dire perché sennò potrei spolerare Per me mi hanno preso per il culo Però non lo so Regione? Voglio una vita No, no, no Allora vi hanno detto veramente Ma il cazzo fa? Brian! Lui stai sultando Senza far sentire l'audio Un minuto di silenzio Che cosa? Non si sentiva l'audio? Che cosa? Piagano, piagano, piagano Guarda quella, piagano, guarda Sta a farti piagano, piagano, piagano Ma non si sentiva Partiamo dalla dipenda Ma cosa hai fatto? Ti parla 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 Ringrazio Sol per i bit Salernitana, che stai 1 a 0, che se ti fanno 1 a 1 c'è fottuto sei Hai fottuto sei, perché dopo te fanno lo besciano in bocca, te fanno i salernitani, sei finito Hai capito? Mi capisci? O non mi capisti? Guarda, vedi dall'altra parte Spinazzola che arranca Importante, che me capisti Spinazzola per Di Bala? Vaffanculo, va Porco duio, porco, porco Ma comunque mi stai chiamato più avanti pure della chat Un gol dell'ex, il buon fazio Hai visto il tiro? No, che tiro? Ma che tiro? Questa non fa la telecronaca a me Mi fa parlare prima, commenta quello che stai Ma non ha tirato Di Bala qua, non so cosa hai visto Mancini recupera palla a centrocampo, Kasdor Esce, palla per Di Bala Di Bala, Zaniolo, Zaniolo, c'è Kastop che sta scattando di là Zaniolo la tiene, Zaniolo, 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 rientra Zaniolo, prova il tiro Porco Era questo il tiro Sì, che tiro che ha fatto, hai visto? Che sleppo che ha tirato Tiziano Non merita queste cattiverie Non le merita un uomo Io ho parlato chiaramente Quest'anno a Sir Se c'è una persona che non deve cagare cazzo Quest'anno è Tiziano È l'unica, l'unica, l'unica Proprio che sta lì Sai quando entri nei negozi Fanno tipo le cose E tu non puoi entrare con i cani Ecco, questo è Tiziano con la boutique durante le partite da Roma Secondo fondi attendibili Soschi sarebbe pronto di un ritorno in banchina Per lui, magari Levate E se gli eravate Ronaldo Olle qui a Soschi Vinci a Premier League Io ho detto L'ho detto Lo ripeto Crissante Mamma mia I nostri primi tre punti potrebbero arrivare col col di Brian Crissante Smalling spazza Attenzione È finito il tempo di regolamentare Fischia l'arbitro E finisce qui La prima partita della Roma